Samantha de Grenet in ospedale con l'amica famosa. Ad assisterla prima e dopo l'operazione nella nota clinica romana della Paideia, come mostrano le immagini condivise sui social, c'era anche lei oltre al marito. È finita in sala operatoria, nelle sapienti mani dell'ortopedico Stefano Lovati, specialista anche in chirurgia protesica e artroscopica, per un problema al menisco. Ma nonostante sia finita sotto i ferri non ha perso l'ironia e così ha improvvisato un teatrino con la collega che si finge un medico e, visita, l'amica distesa a letto poco prima dell'intervento. Vita da sole, io come l'allegro chirurgo, lei, un po' di meno allegra come mia paziente. La mia sola preferita fa la revisione al menisco. Da Jay e Sammy. Ti voglio bene, la didascalia lasciata sotto il video. A scrivere è Eleanor Casalegno, che è rimasta sempre accanto a Samantha De Grenet, 53 anni. Nella clip la showgirl che è finita in ospedale chiarisce le sue condizioni fisiche, menisco sinistro già fatto due volte. Ho avuto un grosso problema alla spalla ma è andata a posto, tutto risolto. La caviglia è gonfia perché l'ho sovraccaricata un po'. Ma oggi il menisco destro. Anche le storie hanno registrato. L'ex inviata dell'Isola dei Famosi, 48 anni, ha inquadrato Samantha De Grenet dopo l'intervento. Tornata in stanza, infatti, ha subito detto di avere fame. Amore non puoi mangiare, sei appena uscita dalla sala operatoria, le ha ricordato Eleanor Casalegno. Non posso mangiare. Non potrò mangiare che ne so un soufflé al cioccolato, ma una focaccetta con prosciutto e mozzarella. Ci ha provato la showgirl ed ex GF VIP. Ma che focaccetta? La chiude la Casalegno.